Siamo all'esterno della prima circoscrizione del comune di Pozzuoli, questa mattina un vero e proprio sciame sismico ha messo in allerta tutta la zona, vi siete preoccupati molto? E' certo che ci abbiamo preoccupati perché prima dell'80 abbiamo già sofferto questa situazione, questo brattisismo, però noi che siamo nativi di Agnano già sappiamo che ogni 20 anni, adesso sono 35 anni e fa sempre questo, poi adesso fa l'assessamento e si dovrebbe mettere tutto a posto. Però chi non lo sa, c'è paura, scappa, finché non è andulatorio va tutto bene perché noi sappiamo che la sofferta è il brattisismo, però purtroppo ci sono bambini, donne anziane, hanno paura, uno si preoccupa. Quella che ha spaventato di più è stata la quarta scossa, quella che poi ha portato l'evacuazione delle scuole, quello che più mette in allerta è anche l'assenza di un vero e proprio piano di evacuazione. E' certo, qua non c'è niente, non abbiamo una strada di collocamento che va direttamente verso Pozzuoli, dobbiamo uscire per andare a Napoli e poi dobbiamo andare a Pozzuoli, questa è una trappola, questa è la conga di Agnano Pisciarelli, io sono nativo di Agnano Pisciarelli, questa è una trappola, qua non abbiamo dove scappare. Io abito qua, a via Pisciarelli, non c'è una viga di fugo, non abbiamo una strada collegata con Pozzuoli oppure possiamo andare subito su una strada principale come la tangenziale, una superstrada, non abbiamo niente. Ho sentito la terza scossa e la quarta che è stata molto pesante, qua a Agnano si è sentito molto perché abbiamo qua la solfatata e praticamente poi mi è stato detto che stanno facendo dei lavori, perciò sono andato pure a vedere. E cosa ha visto? No, niente, per adesso ancora niente, però mi è stato detto che stanno facendo dei lavori verso Pozzuoli, stanno facendo degli scavi, però vogliamo accettarsi se è vero o no. Comunque la seconda, la terza e la quarta scossa si sono sentiti molto pesante qua a Agnano. Vi siete spaventati anche tante scuole evacuate? Ho visto la gente che scappava, la terza scossa che si sono andate a prendere i bambini qua a scuola, la gente si sono messi paura, i palazzi si sono scesi tutti giù, la gente si è movimentata un po', si è bloccata per quei 10-15 minuti un po' di traffico qua a Agnano. Avete paura che succeda qualcosa di più grave? Più grave sì, abbastanza, la gente in allerta, quindi i negozi hanno chiuso pure, se ci fate caso tutti i negozi qua a Agnano hanno chiuso, si sono andati via comunque perché parecchia gente si è andata via, quindi si sono messi paura parecchie persone. Abbiamo paura perché varie scosse ci sono sempre nella giornata, molto lieve, ma non abbiamo proprio esistenza della protezione civile, non abbiamo un piano di emergenza soprattutto qui nel territorio di Agnano, siamo isolati da tutto e da tutti. Anzi, noi ci compattiamo perché abbiamo compattuto anche per, abbiamo saputo che devono fare delle trivelle, ci saranno, siamo molto molto spaventati ma soprattutto anche per noi giovani perché non abbiamo nulla, siamo così, sparsi nel dove, non si sa dove. Io mi sono spaventata, la prima non l'ho avvertita, però ho avvertita la seconda che stavo uscendo per andarmi a prendere un caffè e poi l'ultima è stata alle 11 che è stata proprio diciamo abbastanza forte. Grazie.